andiamo ma sappisce anche la luce è un po' l'arretro è un po' l'arretro io la spengo io la spengo così va di più dai, andate andiamo la spengo la spengo la pedagliore deve tirare ma non fa è un po' l'arretro guarda, ci ho tolto il ginocchio destro ci ho tolto un po' l'arretro per terra li trovate? li stili su? era un po' l'arretro ma si muove sedile si ma perché non va al classroom? ma a me mi si muove sedile? ma a me mi si muove sedile? ma a me non si muove sedile alberto alberto c'è un pomello verticale, lo alzi e puoi spingere avanti le pedaline qui c'è la pomellino, guarda lì c'è l'altezza a ginocchio è troppo avanti? mi sa che quello lì non puoi farci niente non so, non mi vorrei chiedere, non mi va tira tu! non vai, troccato! ma mi sa che è già dietro tutto il sedile ma è già dietro tutto il sedile? ma è già dietro tutto il sedile? ma non ha giudato? no! 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 devi tirare indietro la carena Alberto la picardiera la picardiera la picardiera pagano il cojon y un par Grazie a tutti 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 Speriamo? Poi vediamo Dai spegniamo